Ingredienti, dosi per 4 persone 400 grammi di penne rigate 300 grammi di punte di asparagi 20 grammi di burro 50 grammi parmigiano grattugiato Panna liquida Olio Sale e pepe Preparazione Mettere un tegame di terracotta sul fuoco con il burro e l'olio Unire gli asparagi lessati Il sale Il pepe Farli rosolare Aggiungere la panna e far bollire Cuocere le penne al dente Condirle con la salsa preparata Il parmigiano Poco pepe servire Il piatto è pronto Buon appetito!